Musica Io sono Alessandro Cascini e insieme al gruppo organizzatore della Festa della Sostenibilità abbiamo organizzato un laboratorio sul tema dei rifiuti. In particolare su un laboratorio e non un convegno perché a mio avviso è molto importante in qualche modo prendere consapevolezza di che cosa siano i rifiuti e perché dobbiamo parlarne per capire anche come gestirli. I rifiuti spesso sono dimenticati, basta che noi usciamo di casa li mettiamo fuori e ce ne dimentichiamo. Non sappiamo né il loro percorso né dove vanno a finire né tutte le implicazioni che hanno. E in realtà in qualche modo il rifiuto è un difetto nella nostra società perché sia per quantità che per qualità possono essere pericolosi, possono essere dannosi, possono essere inquinanti o comunque da tenere seriamente in considerazione. La quantità di rifiuti che produciamo è enorme, non ce ne rendiamo conto. Se li mettessimo tutti in una stanza a fine anno probabilmente quella stanza non sarebbe più utilizzabile. E quindi è importante prendere consapevolezza per poter agire. Agire non necessariamente a livello istituzionale ma anche a livello personale. Ci sono tante le cose che possiamo fare e noi oggi cercheremo di vederle insieme, insieme alle persone che partecipano al laboratorio, di discuterne, di trovare delle strategie, delle soluzioni anche alla nostra vita quotidiana, alla nostra gestione quotidiana del rifiuto. Perché appunto i rifiuti sono un problema, possono diventare in qualche modo una risorsa, rientrare nel circolo dell'economia o comunque nel sistema ambiente, però devono essere gestiti in modo corretto, sia a monte in termini di progettazione di prodotto, sia da utilizzatori, quindi scegliere e utilizzare i materiali nel modo corretto. Utilizzeremo dei video, utilizzeremo dei modi di lavorare in gruppo, quindi dei tavoli di lavoro dove ognuno potrà esprimere il proprio pensiero, la propria idea e la propria gestione quotidiana del rifiuto e cercare di migliorarla. Questo è quello che cercheremo di fare insieme.